Un bel momento perché sancisce e rinforza l'amicizia che lega la distribuzione a tutta la città di Napoli, tutta la città metropolitana di Napoli, perché grazie a questa convenzione riusciremo a dare un ulteriore impulso e vigore a un importante piano di investimento. Noi contiamo di investire nella provincia di Napoli oltre 350 milioni di euro in appena tre anni, quindi nell'anno 2022-2024 e per far questo abbiamo chiesto un supporto all'amministrazione del Comune di favorire un'accelerazione delle modalità autorizzative. Il Comune ha dimostrato grande lungimiranza perché evidentemente Napoli è una città che merita assolutamente una qualità del servizio elettrico all'altezza delle migliori città italiane. Ne siamo talmente convinti come distribuzione che all'impegno finanziario che abbiamo già avviato si unisce anche l'ambiziosa idea di realizzare a Napoli una smart city a tutti gli effetti e quindi speriamo e contiamo che nei prossimi mesi di poter annunciare insieme al sindaco l'avvio di questo progetto che è Grid Futurability Napoli. Il Comune di Napoli ha firmato l'accordo con la società e distribuzione del gruppo Enel per potenziare la rete elettrica sul territorio cittadino e migliorarne la sicurezza. L'accordo è a titolo non oneroso, ha la durata di cinque anni e fra le numerose iniziative prevede la realizzazione di interventi per nuove infrastrutture sulla rete di distribuzione di energia elettrica e il miglioramento della qualità complessiva di un servizio essenziale per lo sviluppo del territorio. Già in prima applicazione sono previste opere che interessano oltre 150 chilometri di strade cittadine. Inoltre saranno resi più efficienti e potenziati gli elettrodotti concordando con il Comune il calendario e le modalità di svolgimento delle opere, comprese le modalità di ripristino delle sedi stradali interessate dai lavori, coinvolgendo anche le municipalità. Una rete che purtroppo ha sofferto di una carenza di investimenti e ha bisogno di una forte modernizzazione, di un forte incremento anche per dare delle risposte non solo ai cittadini, quindi alle utenze domestiche, ma alle tante utenze di impresa, ma anche alle nostre utenze. Noi abbiamo le nuove linee di trasporto, i nuovi impianti di sollevamento che richiedono chiaramente un livello di fornitura elettrica alta e finalmente, devo dire con grande soddisfazione, noi abbiamo discusso con Enel e oggi abbiamo siglato questo protocollo che definisce gli investimenti di Enel nei prossimi tre anni, che sono investimenti molto importanti di centinaia di milioni sulla città e sull'area metropolitana, consentirà di realizzare moltissime nuove cabine, moltissime nuove reti di distribuzione, quindi per avere un sistema di erogazione dell'energia più sicuro, più stabile e anche più potente. A questo poi si accoppia invece un progetto molto più ambizioso e visionario che è legato poi a rendere la rete completamente digitale, in maniera tale da avere una smart grid che ci consentirà poi di portare avanti quelli che sono i progetti sulla città di tipo energetico, di questa città intelligente che noi immaginiamo e che consente anche poi l'integrazione con tutte le fasi anche di generazione dell'energia con energie rinnovabili. Noi abbiamo già una comunità energetica a Napoli, la nostra idea è quella di promuovere questo tipo di iniziative, ovviamente per far questo abbiamo bisogno di una rete elettrica intelligente e quella che poi realizzeremo insieme ad Enel.